il vangelo di oggi ci dà una chiave di lettura importantissima per la nostra vita ogni fatto doloroso è un'occasione per convertirci per cambiare per migliorare chi meglio di padre ernesto che ritroviamo in conversazioni bibliche può darci le dritte giuste oltre al vangelo ben trovato buona pasqua della settimana buona pasqua della settimana a te anna maria e tutte le nostre amiche ai nostri amici allora ragione oggi è una domenica importante anche perché dobbiamo ribadire che la quarisima è un'offerta di grazia continua il rischio purtroppo è sempre di mettere la conversione che precede la grazia in realtà oggi il testo molto ricco del capitolo 13 di luca un testo davvero ricchissimo ricorda una chiave di lettura che vale per sempre non solo nella quarisima perché nel cammino verso la pasqua l'itinerario che la parola ci riserva sulla conversione è ancora una volta ribadito la conversione è un dono gratuito non abbiamo fatto nulla per meritarlo è l'amore di dio a portarci a cambiare mentalità ecco perché si dice continuamente tempo di grazia kairos l'oggi di dio ci viene offerto ed è questo tempo di grazia che ci apre alla comunione il contesto in cui ci troviamo oggi il capitolo 13 fa parte di quella sezione del viaggio gesù in 951 ha iniziato il grande viaggio verso gerusalemme e ha riservato questo tempo alla formazione dei discepoli ha appena affermato di esercitarsi a comprendere i segni li aiuta a valutare con saggezza quello che è giusto vivere e quello che è giusto scegliere e mentre sta ancora parlando istruendo partendo da quell'invito gregoleite vigilate state con gli occhi aperti perché il discernimento si fa così arriva una notizia terribile che cosa è successo mai pilato ha fatto trucidare dei galilei i quali stavano offrendo un sacrificio nel tempio forse erano zeloti e il sangue di quelle persone trucidate così barbaramente vengono a mescolarsi con il sangue delle vittime sacrificale è una notizia davvero terribile questo dramma pone un problema molto forte alla mentalità religiosa del tempo da una parte si vedeva negli avvenimenti come questo una sorta di segno di castigo da parte di dio a motivo del peccato e se ne faceva anche un'occasione di giudizio sulle vittime è successo così a loro perché hanno peccato e quindi hanno ricevuto la giusta sentenza ma dall'altra parte l'episodio segnava un proprio un sacrilegio terribile contro la sacralità del tempio il tempio il luogo più santo per israele gesù coglie questo momento così difficile veramente un pedagogo per rivolgere prima una domanda e poi fa un invito molto forte gesù rilegge la tragedia di che è successa ma la la commenta nella fede vi coglie cioè un invito forte alla conversione infatti fa una domanda voi ritenete che quei galidei fossero più peccatori di tutti gli altri galidei la domanda si sospende poi risponde gesù stesso no io dico a voi ma se non vi convertite perirete tutte allo stesso modo e lo ripete per ben due volte al versetto 3 al versetto 5 se non vi convertite perirete tutte allo stesso modo d'altra parte era ancora vivo io ricordo che un'altra tragedia che era successo poco prima le cosiddette morti bianche quelle che purtroppo avvengono anche ai nostri tempi il lavoro che non è mai sicuro che era successo diciotto operai stavano lavorando alla torre di sciro e il mandato e sono morti perché la corra la torre la torre è crollata mentre la stavano restaurando cade addosso a questi poveri operai e gesù commenta di nuovo se non vi convertite perirete tutto allo stesso modo che vuole dire siamo tutti poveri operai nessuno può pensare di avere dei meriti davanti a dio nessuno di noi può in un certo senso programmare la bontà di dio partiamo da un dato di fatto luca è discepolo del grande paolo che una lettera ai romani comincia proprio così tutti gli uomini di qualunque razza religione e di qualunque parte del mondo siano siamo tutti peccatori il figlio di dio annunciando questa verità non vuole assolutamente spaventarci assolutamente non approva la mentalità della gente queste tragedie non sono affatto un castigo di dio come affermava la teoria della ritribuzione piuttosto gesù vuole insegnarci che ogni evento richiede una penetrazione profonda dobbiamo esercitare una sapienzialità gli eventi soprattutto quelli negativi non vanno letti nel proprio cuore come un semplice fatto di cronaca vanno inquadrati in quella storia della salvezza quella che dio porta avanti impercettibilmente come il seme che cresce ogni giorno non fa rumore solo così allora ciascuno di noi può capire innanzitutto per sé che dio come dice ezechiele al capitolo 18 dio non vuole la morte del peccatore assolutamente dio vuole che si converta che viva la difficoltà nostra è che noi mischiamo il peccato col peccatore spesso invece di odiare il peccato odiamo il peccatore in dio questa differenza è chiara e netta dio interessa salvare il peccatore dio non sopporta il peccato ma è sempre vicino al peccatore gli offre sempre una possibilità e in questa chiave allora che noi dobbiamo leggere una parabola oggi brevissima ma molto bella è la parabola del fico sterile un fico che non porta frutti è un fico ormai appassito anzi diciamolo meglio è morto è una pianta morta da tre anni il padrone aspetta dei frutti non ne trova e lo vuole addirittura spiantare il verbo che usa luca che conosce molto bene il greco è copto e copson proprio di significa taglialo dalle radici sradicalo non serve a nulla quando un albino ridisce i contadini lo sanno bisogna sradicarlo perché altrimenti quel terreno diventa infruttuoso il vignaiolo che ovviamente uscendo dalla metafora è il figlio di dio intercede intercede verso il padre chiede di poter zappare intorno aggiungere quel concime di cui abbiamo parlato nel mercoledì santo quelle ceneri che servono anche a concimare la pianta vedete la cuaresima è una concimazione da parte di dio e qual è l'espressione che usa il figlio che è il contadino forse farà frutto in futuro e sarò certamente lo taglierai chi vuole dire qui gesù vuole dire una cosa molto importante noi non dobbiamo fare nessuna di queste due ipotesi c'è gente che dice ormai è perso non c'è più niente da fare la bontà di dio si è esaurita ed è una posizione sbagliata ma c'è anche l'altra opposta di quelli che dicono ma non ti preoccupare è quel buonismo con cui pensiamo che dio non possiamo programmare la sua bontà non ti preoccupare sta tranquillo tanto di un buon accione anche questa è una posizione sbagliata noi non possiamo programmare la misericordia di dio ecco perché gesù dice c'è una terza soluzione che è quella vera solo dio può curare un figo che ormai sterile e infruttuoso perché solo la misericordia non solo guarisce ma salva e rende vivo un albero che ormai vuole quindi bisogna davvero guardare a questa pazienza di dio la pazienza di dio offre un tempo di grazia invita a fare con sollecitudine a dare una risposta a quella grazia è importante dare una risposta ma gesù l'aveva detto anche nella sinagoga di nazia te l'abbiamo commentato no questo anno di grazia di cui parlava anche isaia 61 gesù al capitolo 4 di luca ce l'ha ricordato perché progredire è ricominciare ogni giorno grazie all'amore di dio ecco la verità di oggi dio non ci abbandona nel peccato ma ci chiede la responsabilità rispondendo alla grazia di rialzarci e di camminare alla luce della sua parola questa è la grande certezza che la cuorissima ci offre ancora una volta e la misericordia resta il punto fermo dell'insegnamento degli esempi di gesù certo hai detto bene è il punto fermo è il centro della rivelazione tutto è dono tutto è grazie allora l'uomo che deve fare l'uomo non può far nulla l'uomo non ha crediti davanti a dio nessuno di noi può dire a dio mi devi di compensare per quello che ho fatto quando anche abbiamo fatto tutto di la luca al capitolo 17 siamo servi inutili è la grazia che ci viene incontro è la misericordia che ci porta a conversione e come nel salmo 51 dio manda il profeta nata ad accusare il peccato a davide senza questo avviso senza la grazia noi non riusciamo nemmeno a vedere il peccato che commettiamo rimettiamo al centro la verità evangelica la misericordia ci precede sempre è sempre dio che fa il primo passo anno e trucca il secondo ricordiamolo sempre grazie padre ernesto anche per oggi grazie a voi buona pasqua della settimana buon cammino a te anche a te di cuore perfetto ecco capo �ulare as